c'è il cazzo io andrei lì ma non viene a fare più un buon contratto no no si spara no non ti preoccupare l'hai pieno che vivi i tuoi compagni possono rientrare uccidi i bersagli per inchiararmi prima usita un punto di lancio per la spada è sì abbiamo un po' davanti qua il nemico ha schierato un UAB di disturbo cazzo 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 uno è entrato è entrato qua e volo con Bernard sopra è pieno davanti a me altri 3, dove sta il blu, dove sta il taxi sono due, uno ho fatto oh cazzo è qua sopra finalmente si inizia a giocare un po cazzo minchè non ho visto il nome di tazzo cazzo stavo sparando mamma mia solo che era vicino a te oh oh forse ho uno dietro non sopra dove le matrimoniali alersi vaga ma non pinga nessuno ma che è eh ma c'è giocare c'è giocare il tuo team è nella zona sicura pure sulla scicca qua mi sa che abbiamo pulito eh curate chi sta allora mi sa allora mi sa che stanno verso farm sì sicuro una testa in munizione se lo vuole si diverso a farm si diverso a farm guardate guardate tutto quello che potete resta poco tempo guardiamo ragazzi ecco un altro e infatti uno è sceso sulla montagna davanti a te i taxi mhm UAV alleato in zona oh ancora con il fantasma no saluti eh cross sono qua bro fatto uno te lo chiudo due dietro uno fatto bro occhio uno qua cazzo occhio di lui è il benzinaio eh bravo un nemico in arrivo nell'area bro c'è uno sul list di quello che ho fatto prima sono un team nel benzinaio occhio a Mimmo eh è un team nel benzinaio se arrivo sono in tre vabbè arrivo anche io entro eh oh forse bella occhio un po' muo' che sa come mentre lo uccidevo pensavo a mettere la granata eh la eh gruppo di bersagli marcatto si deve non portare la ma eh sì sì si bernard che vuoi fare voglio passare allo shop a fare un Wav e vorrei prendere una cazza a Muni per una formazione ce l'ho io, ce l'ho anche io ce l'attiro? eh se vuoi si Wav ho fatto pure io ho un Wav io ce l'ho uno, ne prendo anche un altro se volete si, se la volete picka' si andiamo 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 facciamo i cittadini questo secondo me sto sotto si si ok uno lo picka dall'altra parte verso porto ecco lì ecco lì arriva nel primo salvo per montare il salvo eccolo cecchino peccato non è sotto noi non è sotto noi quindi devi scendere per forza sotto, sotto, sotto il tunnel sotto il tunnel il nostro Wav è in turbolo ancora più sotto lascio lì sto, lascio lì sto ah si stanno sotto sotto no escono dalla casetta qua davanti casetta rica casetta oh fuori ho qua no si 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 questi si ho qui uno questi stati ando qua eh oh dietro ragazzi ce l'avete dietro uno Mimmo, tira l'altro UoP Ora sei tra gli ultimi 10 Richiedo ricognizione aerea Ma che cazzo è questo? Forte Stanno sotto, sì 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 Stanno sotto, stanno sotto C'è uno e c'è chi no Ma facciamoci quelli in c'è Eccolo, eccolo, di qua sta scendo Qua da me è pieno di luce, raga Qua è morta gente Eh qua ce n'è uno, metto pingan luce all'orea Eh raga, ma veramente stanno giocando con il fantasma questo Quattro C'è un altro C'è un altro Quattro, o nientati Occhio dietro eh, sono tutti al castello adesso Nooo, non c'è che... Eh un paio sono al castello eh UaV alleato in zona Quattro, due due, o quattro tre uno Sotto, sotto di voi E' qua sotto il tunnel, raga Dovamo puoi arrivare da lì eh Sopra, sopra ce l'ho, sopra ce l'ho Sopra da me, sopra da me Sopra da me Gire dei bannati, giri Cecchino becchiato Copri dietro Quattro Un team da quattro Ragama avevi... no dai tre Un team da tre, scusi Amiche, noi non siamo guardi C'è, c'è, regà, ma veramente stanno giocando con tutti questi Siamo in montagna, 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 regà Lo hanno pingato Eccolo Attacco aereo alleato arizona Eccolo 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 Ragazzi, ragazzi GG, bella top Bella resa, ma buona C'è vera... Assolutamente questi giocano una mappa di ritorno bloccati sotto che non si muovono 38 kg, easy, easy Easy Mamma mia Non mi lascia gioco Adesso gioco Perché vedo tutti con la stessa skin di taxi Eh, perché la più bella, però Papi, mi devi chiamare... Mi devi chiamare Papito Se proprio la faccio da Piero Perché qui Lui Poi Che Che il mio nome? Che è il mio nome? Si, dove un'ora tutta, posso un'ora più fattigio? Dove un'ora più fattigio? ragazzi viva la fessa che cosa? oh no sembra però viva la fessa quindi io non muoio no pure quando muoio mi farò fare come cazzo si chiama la barra la fessa in zilicore no mi farò fare la barra a forma di fessa di fessa ah bellissima rosa o nera come ti piacere oh ma che è chi? controlla la tredatura chiaramente eh no 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 riscaldamento finito prepararsi al lancio sulla zona di guerra non Marca un punto di arrivo per la squadra, liquiderai tutti. Viva la 60! Gente da voi sopra eh! Noo c'era 8! Noo riga la puglia, ma da questo pezzo di merda! Che schifo! Dammi 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 dammi! Dammi! Ah raga! Sono due sopra eh! Un altro! Un altro ancora! Oh no! Vai a terra! Sta arrestando! Sta arrestando quello! Compagno tornato in campo! Ben fatto! Ho fatto i tuoi colpi! 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 In volo so gli altri! Ho fatto i tuoi colpi! C'è ragà! Comunque non è possibile si sa gioco di merda! I pugni sono più forti delle armi! Che quella è l'altra cosa che mi sta sui coglioni! Mamma mia porco zio! No allora! Se tu non stai sparando va bene! Ma tu ti stai scaricando! Un intero caricatore! Lui arriva! C'è! Due cochi ti butta a terra! Ti lascio un MP7 a terra, brah Non è male, compra, brah Ok C'è un UAV Possiamo andare ai palazzoni, eh Ok, uh, bello, palazzoni, bello, 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 palazzoni Il nostro UAV di disturbo è attivo A terra No, ma ha il check-inato Ok, a terra, il check-inato Salgo dall'altro lato, eh Salgo da un'altra, non mi arrivo, se di me Non ho munizioni Una a terra Ho caduto giù, frate Una a terra, là Un nemico in arrivo nell'area Aiutalo, aiutalo, sopra Un nemico in arrivo Pro, nemmeno ho sdraiato di fronte Nemmeno ho sdraiato di fronte Nemmeno ho sdraiato Oh, che cazzo è, oh Oh, che cazzo è, oh O Vedi da me? Che cazzo mi ha sparato Vieni duro si è lanciato granate attacco con mortaio guarda sotto dove sta questo? non lo so, sotto di noi ho fatto uno un altro ci va più sopra quello sotto ve l'ho fatto quello sotto l'ho fatto io si si accende sulla montagnetta di fronte cecchino pure verso e sinistra si si a terra il cecchino un altro la dietro oh la c'è il granazzo senti di qua fatto fatto una matubro raga sono troppo forte sono troppo forte come mi devo chiamare? una sopra Bernardo ah lo so sentite perciò se è solenne mamma mia sono troppo forte devo fare anche il loadout volendo infatti ah boh io le armi le tengo però non tengo loadout cioè non tengo i perk vabbè loadout io lascio safe non lo facciamo c'è gente qua a farm faccio va via devo a farm che dite guys c'è una terra dove è? eh c'è un po' davanti dove è la taglia? ok ok dove sta il coso giallo ma lancio cassa di piastre che non è un carmine aveva proprio un bel pesce L'avrò adesso lato U.A.V. nemico attivo U.A.V. alleato in zona C'è uno qua dentro Quattro C'è uno qua dietro bro I.A.V. a coccarsi le 3 C U.A morphine Tächli a mettere a tavola Rcesse d'algunico ma c'è gente tu arrivo arrivo da te mi resto mi resto bro arriva un altro in volo e capannoni grandi centrali ma tu è pieno la sotto aiutiamolo aiutiamolo raga è pieno arrivo tutti raga pure sotto sotto i palazzoni dove la ma è pieno di cend buono giallo ma dove stai ma perché sei alla ma non ti preoccupare sto safe però mi serve una mano io non ho un shop però portatile ok no raga torna indietro però è pieno hai palazzoni abbiamo stata linea ultima farm a terra quello dentro ho preso controllo 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 da me è da me uno raga verso di me, verso di me, dove è il mortoio? qua, qua qua dietro uno fatto ma quelli che erano dietro a farm, li abbiamo fatti? tutti fatti? ok, mi stanno puntando da dietro oh, sinistra 4 contro 4, calma oh, destra, destra, mi hanno mirato eccolo, eccolo c'è chi no vado di qua via combattiva, qui eh, in open, in open, in open sono ok, da qua, da qua, da qua io mi faccio questo in open mi ha pingato, mi ha colpito da accantissimo quello vai, 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 che non ve ne fate? tutte e due ultimi cinque otras, verso di me 1 no 2 qui